Tocca a me adesso, ho sentito i tuoi pezzi classici e ora senti i miei, senti questa che figata Perché mi innamoro sempre della donna sbagliata Perché mi innamoro sempre della donna Lascia che riformuli la domanda Perché sono attirato da una persona anche se so che non è giusta Guarda caso io sono risposta Perché spero di sbagliarti Di sbagliarti Guarda cosa io sono risposta Guarda cosa io sono risposta Guarda cosa io sono risposta Grazie a tutti.